E benvenuti e benvenuti qui a Dalcan che parla. Allora, c'eravamo lasciati che stavamo facendo appunto le gallerie e abiette e così voglio continuare ragazzi perché voglio assolutamente andare a vedere dove vuole andare a parare il gioco. Questi sono quelli che abbiamo preso perché sto registrando naturalmente di seguito perché ho poco tempo oggi quindi cerco di fare il più possibile. Allora, andiamo a fare tutte le gallerie e abiette che possiamo fare. Cominciando da questa, io voglio capire, voglio assolutamente cercare di comprendere questa storia perché il gioco non ci sta dando altre spiegazioni se non quella che ci ha lasciato Cormondo di dire, di spiegarci appunto soltanto la parte in cui dovevamo eliminare il male. Quindi saremmo serviti noi per eliminare e stirpare tutti gli abietti restanti dopo aver distrutto l'origine del male. Anche se chiaramente lo capiamo, è uno spoiler gigante quanto una casa e il fatto che non si possa, cioè non si è arrivati a quel punto proprio perché ci sono le, come si chiamano le, il percorso stagionale che ci dice di uccidere ancora Varesh. Varesh si chiamava, non mi ricordo più, comunque di ucciderlo e quindi sappiamo che non è morto. E via, così. E quindi andiamo a farci tutte queste, se non sbaglio ne abbiamo fatte sette, quindi questo episodio ci concentreremo a fare tutte le gallerie abiette che possiamo fare. E finite tutto questo andiamo a vedere se ci sarà una modifica o qualcosa che si potrà fare perché altrimenti siamo inguaiati, non sappiamo come muoverci. Non ho fatto alcuna modifica alla build perché tanto, come vi dicevo, sto registrando di seguito. Quindi facciamo tutto velocemente, anche il fatto di eliminare le cose come avete ben visto, c'ho ancora tutta la roba lì. Ho soltanto tolto qualcosina dall'inventario proprio per non trovarci totalmente in affanno. Ok, facciamo così, solo colpi critici, perfetto. Allora facciamo l'irai di Dio che da soltanto con i colpi critici adesso ce l'abbiamo aumentati del 70%. Perfetto, perfetto. Questo diventa il nostro conduit praticamente. Siamo delle macchine da guerra. Mamma mia. Comunque Rogo, anche dopo tantissime ore di gioco, continua a piacermi tanto, c'è poco da fare. Non è un personaggio che mi annoia, non è una classe che mi annoia minimamente. Anzi, semmai più lo gioco più ho voglia di giocarlo. Eppure stiamo giocando sempre mi lì, eh. Io pensavo, detto, mamma, quasi quasi, con gli aspetti nuovi, forse forse nella stagione potrò pensare di fare un Rog, magari, la bita bomb o contro come la bita trappole? No, non ci serve. Però volevo vedere almeno le cose. Resistenza, resistenza, probabilità di schivata. No, totalmente inutile. E vi dicevo, pensavo che con gli aspetti nuovi avremmo cambiato qualcosa facendolo mi lì, però no, non ce la faccio. Cioè facendolo ranged, non ce la faccio, perché mi piace proprio giocare mi lì. Ma proprio tanto. Voi, naturalmente, so che siete un pochino divisi. C'è chi lo gioca con Twisting Blaze, c'è chi lo gioca con Tiro Rapido. Ed è giusto, eh, perché, ve l'ho detto, il Rog è bello per questo, perché ha vari modi per essere giocato. Non esiste un modo giusto per giocare il Rog. Esiste un modo che piace. Poi, chiaro, per fare determinate cose, probabilmente, alcune build saranno più efficaci. Però, nel più delle volte si può fare praticamente tutto. Ecco, finalmente un cuore. O li abbiamo saltati tutti, che non ce ne siamo accorti, perché eravamo distratti, o non lo so. Via. Ok. Perfetto, cuore in gabbia, vediamo se è interessante. Eeeh, probabilità di giocare di sgozzo, no, niente. Questi qua a noi non piacciono proprio. Io l'ho usata e ogni volta che giocavo allontanando i nemici era una tortura, perché poi gli dovevo andare addosso a cercarli, quindi no. Assolutamente no. Spero che ti verrà più chiara la storia, la meccanica degli abietti, in quanto i cuori bianchi non riusciamo ad aprirli, le cage, le, appunto, le gabbie. Non riusciamo ad aprirle ancora, nonostante abbiamo preso delle cose che fondamentalmente ci davano quell'impressione. Dai, forse morisci veloce tu, che non abbiamo tempo da perdere. Vediamo se c'è qualcosa nel frattempo. Facciamo così. Eeeh, sì, vabbè, totalmente inutile. Cosse, vai giù, e morici. Ok. Corre in gabbia, cavità di dine, spedizione completata. Io volendo potrei andarmene, però no. Perché chiaramente noi vogliamo vedere tutto quello che si può vedere. Oh, andiamo prima da destra, dai. Perché queste spedizioni possono offrirci qualcosa di interessante. Una parte non potremmo utilizzarla e l'altra sì. Vediamo, questa dovrebbe essere la parte utilizzabile, giusto? Sì, infatti, perché questo non possiamo e questo sì. Ok, perché ci vuole proprio quello di racconto. Uno, due, e tre. Ciao. Ok, vediamo che c'è. E invoca gli abietti, evento. Ok. Questo è semplicemente un evento, quindi. 3538. Quanto facciamo con questa? Due, otto. Dai, mettiamolo, chi se ne frega. Tanto non lo stiamo cambiando così tanto spesso l'amuleto, come pensavo. Va bene, andiamo a vedere dall'altro lato, ma credo che sarà inutile. Allora, facciamo così. Lo vedo una sola volta. Se dovesse accorgermi, anche che in questa galleria non potremmo... Cioè, non possiamo aprire anche questa qui. A questo punto, la prossima volta, eviterò di tornare persino indietro ed evitare appunto di perdere tempo. Perché... Fatemi vedere se sto registrando, sì. Perché onestamente non mi va di perdere tempo per un qualcosa che non posso fare. Vediamo, vediamo. Eh, no, addirittura era chiuso. Vabbè, perfetto. Usciamo da qui, andiamo a Cat Bardo. Dovremmo avere ancora spazio nell'inventario per poter fare tutto. Ma, ma, ma... Cerchiamo di capire un pochino la situation. Vediamo se abbiamo tanta roba. Ah, magari togliamo soltanto... Neanche i cuori togliamo, dai. Facciamo così. Andiamo a togliere soltanto le nostre cose qua. Tanto non c'è niente di interessante. Io vorrei... Forse, forse da livello 59 addirittura ci salirei, sapete? Potremmo provare, così diventa ancora più complicato. Però così siamo efficienti. E l'efficienza conta in questi casi. Allora, fatemi vedere dove possiamo prendere un'altra galleria. Bietta, eccola qui. Da qui ci arriviamo, sì. Quella è la più... Eh, cacchio, dovremmo sbloccare anche questo. E... Sto... Vabbè, dai. Sì, 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 sì. Poi li sblocco con calma, magari per conto mio. Vi evito di fare tutti sti giri. Vi porto direttamente gameplay. Era questo che vi dicevo, raga. Io non volevo fare... Tanto questa non era serie del completismo. Quella per adesso l'ho accantonata un po'. Perché chiaramente devo dare spazio alla stagione. Funziona meglio attualmente la stagione. Perché possiamo salire con Scarlett e vedere le nuove cose. Se non vado avanti non vi posso anche dire quali sono le mie impressioni e come mi sto trovando. Per questo motivo sto continuando qui. Niente, Donnie si incastra a prescindere se è un essere materiale o meno. Lui a prescindere dice si ricorda, c'ha un eco del passato che quando fa le curve si deve inchiodare e lui lo fa. E così. Abbiamo un Donnie un pochino problematico. Ma ce lo facciamo piacere così. Ok, andiamo qui. Bevo, eh. Ok. Uccidi i ragni per attirare la matriarca. Va bene. Elimina corruzione a bietta 3. Facciamo tutto. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Qui, subito. Mamma mia! C'è morto istantaneamente. Gli smeraldi ancora li prendo perché non vorrei poi dovessero servirmi. Ma addirittura questo. È perfetto per noi. Non ce lo facciamo malissimo di base. Salve a tutti! Guardate un po' che ho. A posto. Non c'è più nessuno. Adesso giro andiamo da destra. I corebietti. Andiamo di qua. Non posso ancora farlo. Oh, è sopravvissuto. Lui è la botta. Punto eccellenza. Aspettate che prima sfrutto il potere che abbiamo ancora e poi ci fermiamo a cambiare il punto. Qua esplode il mondo. Abbiamo avvitato tutto. Grandissimi. La scarletta è potentissima. Dove dare danni critici, danni fisici. Danni critici, vai. Mi serve più tempo. Tanto stiamo puntando su quelli. Anche se i danni fisici conviene sempre averli perché avendo ridotto di base... Beh, effettivamente i danni fisici aumentano anche i danni critici. Perché è comunque un danno fisico quello che facciamo noi. Quindi tecnicamente stiamo facendo entrambe le cose quando facciamo danni fisici. Oppure il critico è totalmente a parte. Non sapete che non ci ho mai pensato. No, perché è il danno fisico che viene moltiplicato per il danno critico. Quindi teoricamente sono un pochino a parte. Però effettivamente se metto un moltiplicato da un lato o dall'altro ci cambia poco. Ehm, ok. Andiamo qua. Vabbè dai. Facciamoli esplodere. Ah, ok. Errore mio raga. Non capivo perché non esplodesse nessuno. Praticamente avevo... Stavo premendo il tasto sbagliato perché mi ero posizionato troppo sulla sinistra sulla tastiera. Infatti non stavo riuscendo a capire perché non stessero crepando. Quando effettivamente loro crepano abbastanza agilmente. Andiamo di qui, anche se ci siamo persi dall'altro lato. Però raga, che dobbiamo fare? Eh no, infatti siamo costretti, mi sa. Dobbiamo farlo per forza. Vediamo se ammazziamo questi invece. Cambia qualcosa. No. No, 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 infatti. Andiamo dall'altro lato. Tanto io preferisco sempre esplorare. Devo sempre sapere se c'è qualcosa di interessante nelle gallerie. Perché non vorrei che poi spuntasse quella cosa particolare. Anche perché per noi le gallerie sono qualcosa di nuovo rispetto a quello che avevamo prima. Certo, sono sempre dei dungeon, sono sempre delle cose dove tu entri in un cunicolo e stai lì a fare il casino tra i mob. Vero, però potrebbero magari nascondere qualcosa di particolare. vediamo. Vabbè, questa corruzione la dobbiamo per forza distruggere, altrimenti non ci avrebbe aperto la porta. Non posso ancora farlo. Ok. Coricino. Apriamolo. Nel frattempo sfondiamo questa. Ci potenziamo. E via. Ok. Vediamo se è interessante. Ok. Ok. E' quella di prima. Perfetto. Quindi dovessimo sostituire l'anello. Finalmente abbiamo un sostituto, un cuore sostituto a quello. Perché altrimenti sarebbe stato un dramma. No, perché ora onestamente mi ci sto già affezionando a questo cuore qua. Volevo fare una battutaccia però, non so se farla. Non lo so, non lo so. Magari me la tengo. Se la volete sapere scrivetemelo nei commenti. E speriamo di ricordare la battuta. Che sapete un pochino come funziona. Allora. Vediamo, uccidiamo lui. Ah, poi si va avanti. Perfetto. Spostiamoci. Il muro di veleno. Madonna quanta roba. Va, 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 va. Ok. Continuiamo di qua. Tutto quello che c'è lo facciamo. E poi... A proposito, dobbiamo vedere qua cosa abbiamo preso. Colpo fortunato, no? Ce ne faga niente. Sempre questa non possiamo farla. E andiamo di questa. Fino a che potremmo fare questa? Perché non ci ho pensato a quanti ne abbiamo. 4, 7, 7. No, vabbè, ce ne abbiamo, dai. Ok. Semplice, semplice. Perfetto. Usciamo da qui e iniziamo un'altra galleria. E così andiamo avanti. Perché adesso sono troppo curioso, raga. Io entro alla fine di questo gameplay. Dovrò assolutamente sapere che cacchio faremo. Perché non esiste questa via di mezzo stramba. Cioè, no. Il gioco mi deve dare una spiegazione. Quindi, sono curioso, sono curioso. Facciamo che... No, facciamo che vendiamo. Che abbiamo bisogno di un pochino di soldi, ma... Sì, dammi pure. Ok, vabbè. Dammi pure. Qua incominciamo a riempirci. Ma abbiamo ancora tempo per... Per fare il tutto. Dobbiamo, dobbiamo per caso... Riparare? No, ok. Vediamo quante ce ne mancano. Cinque, solo cinque, raga. Dai, cacchia, raga. Ce la facciamo. Quanto siamo? Quattordici miei. Ui, a voi. Cinque le faccio. Sono corte. Beh, che noi giriamo tanto, però sono corte. Dai. Questa l'abbiamo fatta. Dove stanno le altre, però? Questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta. Ma ce ne sono cinque. Ho i miei dubbi, perché le vedo tutte fatte. Ehi, là. Gioco. Dammi le... Ah, ok. Questa è da fare. E come ci arriviamo? Dobbiamo partire da qua. Bene. Non abbiamo sbloccato tutto. Facciamo che poi andrò nel... Probabilmente nel prossimo... Non gameplay, nel senso. Quando giocherò da solo, incomincerò a sbloccare un pochino di punti. Perché non li abbiamo sbloccati. C'avevamo la pigrizia intrinseca, perché volevamo fare altro. Volevamo livellare. Abbiamo detto, per la prima volta possiamo andare un pochino a cannone. E quindi facciamolo, facciamolo. E quindi... Oh, goblin. No, no, no. Così no, che scappa. L'abbiamo bloccato. Zitti, zitti, zitti. Non può scappare più. Ci siamo beccati pure la spada sacra. Meritatissima, proprio. E... Vabbè, ci dà sempre cagatine, però. Purtroppo. Non ci riesce a dare qualcosa di interessante a livello di armi, perché... Secondo me dovremmo passare all'altro livello. Però ve l'ho detto. Aspetto, aspetto. Finiamo prima le gallerie. Così siamo più efficienti e veloci. E magari proviamo un attimino, dopo le gallerie, a salire di livello. Secondo me ci spaccano le natiche, ma... Ve l'ho detto. Non è un problema fino a che non devo farmare. O fino a che non devo fare tutte queste gallerie velocemente. Perché io in questo gameplay ho intenzione di finirle. E vedere cosa succede. Assolutamente. Quindi solo cinque, dai, che ci vuole. Quanto ci vuole? Sì, penso che ce la faremo. Oddio, se non ce la facciamo, magari finisciamo. Finisciamo? Finiamo al prossimo? Non lo so. Ma dovremmo, in teoria. Pure dieci minuti. Oddio, dieci minuti a galleria? Sono troppi. Effettivamente non abbiamo calcolato il tempo. Ci potrebbe volere un pochetto di più. Allora, noi cerchiamo di essere veloci. Dai, cerchiamo di essere veloci ed efficienti. Ok. No, cosa c'è? Niente. Se non vediamo i cuori... Oh, quanta gente, finalmente. E non siamo riusciti a farli esplodere perché abbiamo proccato malissimo la nostra abilità. Tutto ciò cade da tutto, però. Ecco, quello mai. Cioè, quello non trasmette mai. Sì, distruggiamo solo le corruzioni. Prendiamo i cuori che ci sono qua. Nel frattempo uccidiamo anche questo. Dalla distanza l'abbiamo abbenenatissimo proprio. Eccolo là. Non posso ancora farlo. Ancora, catturiamolo. Oh, quello che cacchio è. Dai, esci fuori, su. Il macellaio ci è uscito fuori. Che poi voi non l'avete visto perché giustamente l'ho beccato in giro. Siamo uno a uno col macellaio. La prima volta ci ha uccisi, devo essere sincero. La seconda l'abbiamo ucciso noi. Quindi, questa volta abbiamo avuto pure noi una lezione dal macellaio. Però non importa. La seconda volta siamo uno a uno per adesso. Quindi, fino a prova contraria, non può dire niente. Ok, dobbiamo andare per forza di là. Ah, dai, che questo lo stiamo facendo velocissimo. Andiamo di qui. Via! Ok, 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 dai, dai, dai. Quando partiamo facciamo abbastanza danno. Ma inizialmente, quando dobbiamo partire con Twisting Blades, un attimino più lenti siamo. Vai. Ah, il cuore, mannaggia. Ci fa perdere tempo, questo. È una lotta contro il tempo, raga. È una lotta contro il tempo. Vediamo se riusciremo davvero a farcela. Dai, dai, veloce. Poi li vediamo dopo, sti cuore, dai. Possiamo andare direttamente qui. Questa è una di quelle veloci, dai. Tutto sommato, forse credo che la stiamo facendo in quattro minuti circa. Che ci dobbiamo sempre fermare per fare questi. Obrale, proprio lui. Allora, buttiamo veleno. Facciamo prima. Ok. Via, via, via. Oh, aspettate però. Pelli grezze. Quale ce le prendiamo? Vai. Ah, ok. Non l'abbiamo finito, eh. Mi sembrava strano. Mi sembrava davvero strano che avessimo finito. Ma perché l'hanno fatto così lento, sto sistema? Cioè, ti obbliga a fermarti troppo. Dovrebbe uscire tipo dopo un secondo al massimo. Per evitare di stare lì a guardare. Ah, in realtà è finita. Però sappiamo benissimo che più avanti ci sarà anche il resto. E siccome dobbiamo prendere tutto quello che possiamo prendere. Facciamo quello che riusciamo, raga. Se non ci dovessimo riuscire, sti cavoli, dai. Troppo non dipende da noi. Il tempo è quello che è. Ok, basta andare di qua. Ah no, questo è quello sempre chiuso, giusto? Quello che non possiamo farci niente. Eh, sti cavoli. Evento accettato, uccidi Lego di Varshan. Fermati un attimo. Ah, ok. Quando riusciremo a creare questa invocazione. Esche scienza mostruosa, ok. Fino ad allora non potremmo mai farlo. Chissà, chissà. Non lo so come si faccia questa cosa. Sto, sto immaginando più volte come potrebbe essere, ma... L'unica cosa che mi fa pensare è che davvero finendo il gameplay, finendo queste gallerie a biette, si, Core Mond, si svegli un attimo a dirci qualcosa. Altrimenti, boh, non lo so. Dunque, più o meno ci stiamo mettendo circa, boh, sei minuti a galleria. Cioè, adesso, questa qua ci abbiamo messo circa sei minuti. Ok. Vediamo se siamo troppo pieni. Se riusciamo... Sì, magari se premo i tasti giusti. Facciamo che prima andiamo a Chiova, Shad, vendiamo al volo e partiamo per un'altra. Non so se dobbiamo uscire dal gioco e rientrare per avere tutte le gallerie visibili, perché è come se... Ce le dà tutte fatte, quindi... Non vorrei che non ce ne fossero più, ma lo scopriremo subito. Vendiamo ancora perché ci servono soldi, eh. E siamo rimasti seriamente a secco per tantissimo tempo. No, pare che no. Questo è ancora così, va bene. Allora, vediamo dove possiamo fare una bella galleria a bietta. Perché di qua non ce n'è nemmeno una? Questa è fatta. No. 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 Sarò io che non deve... Oh, forse è qua dove non lo sblocca secondo me e devo uscire e entrare dal gioco, dai. Facciamo così. Non dire che si perda tempo. Usciamo e rientriamo e ci troviamo tutto resettato e quindi... Facciamo prima. Eh, scusate. Non è che possiamo perdere tempo qua. Ci abbiamo da fare, noi. Stiamo registrando. Stiamo cercando di portare contenuto. Allora, vediamo. Dovrebbe aver... Ecco, perfetto. Rifacciamo questo e via. Così, come se non ci fosse un domani. Però partiamo a cannone, noi. Ce ne frega nulla. Ma il concetto è quello, è. Quando bisogna fare queste cose qui a ripetizione... E io volevo farvele vedere tutte queste gallerie perché fanno parte della storia. Se fosse stata... Se fosse stata una questione solo di farming, no. Vi dico la verità, non ve le avrei fatte vedere. Però siccome potenzialmente potrebbe esserci qualcosa che... A un certo punto farà parte appunto della storyline... E io non vorrei che rischiassimo di andarla a perdere. E lo volevo registrare come cosa. Via. Ma proprio via, c'è il senso. Dobbiamo sbrigarci. Forza. Veloce, veloce, scarlettina. Dobbiamo comprare una bici per scarlett. Vabbè che tanto quando ci... Avremo tutti quei nostri potenziamenti. Massacro di uomini capra. 10.000 uomini capra abbiamo già ucciso. Madonna. 10.000. Porca miseria. Va bene. Va benissimo. Sì, ma tanto non dobbiamo uccidere tutti. Sì, noi andiamo solo dove dobbiamo andare. Andiamo di qua. Si vedete? Noi stiamo livellando piano a piano, eh. Non è che alla fine stiamo rimanendo tanto indietro. Soltanto che non si fanno i stessi livelli che normalmente fareste nei Nightmare. Ve lo dico chiaramente. Purtroppo, essendo che noi siamo di livello 58, questi 55, cioè in realtà non prendiamo un diamine di niente dall'esperienza. Ed è brutto. Infatti non avrei mai voluto che abbassassero i livelli dell'esperienza. Anzi, al contrario, dovevano alzarli. Cioè, scusate, i livelli del gioco. Cioè, piuttosto preferisco stare 5 livelli sotto, ma non 5 livelli sopra. Perché mi stai facilitando le cose. La sfida io la volevo su questo, capitemi. Lo preferisco molto di più. Anche perché così si livella di più. Cioè, perché io nel mondo aperto non devo livellare come in un Nightmare? Davvero, non ho capito sta cosa. O vengono pagati da qualcuno per fare i Nightmare. Non ho capito perché ci si punti solo su quello. Cioè, hai un mondo aperto, è stupendo, è meraviglioso. Hai creato tanta roba per poi alla fine dirci, vabbè, fate solo questo. Ok, adesso abbiamo anche le gallerie a biette, fondamentalmente, ok? Però non è una pratica endgame. È una pratica che ti potenzia per poter arrivare poi all'endgame potenziato. Però per fare poi cosa? È questo che poi voglio andare a capire nella patch 1.1.1. Cosa faranno? Oddio, che forse quando vedrete sto video l'avranno già fatta. Perché comunque questo forse è il settimo o l'ottavo episodio. Quindi, anche mettendoli, come faccio sempre, un video al giorno. Il vostro Dalkan vi porta un video al giorno almeno. Di solito ne metto due pure. Ma sto cercando di non esagerare. Perché vi lascio i video news e quant'altro. Per chi non lo sapesse fosse nuovo del canale. Però, forse sarà già uscita. Allora, non lo so. Vedremo, vedremo. Di su. Prendiamo il forzierino. Voglio toccare i forzieri che si incazzano tutti da ste parti, eh. Qua siamo quasi pieni. Mamma mia. Già hanno riempito ormai questi cacchio di cuori pure. Mannaggia la misera. Era tanto bello se l'avessero sistemata questa cosa prima di un'altra season. Perché? Perché? Andare a eliminare... Cioè, creare un ulteriore problema. Però, va bene. Ce lo facciamo bastare. Anche perché hanno detto che vorranno mettere un altro slot. Ma solo uno. Questo non si può. Andiamo di questo. Io ci provo sempre. Che insomma cambia per qualche ragione qualcosa che... A me... Ignota. Ok. E abbiamo fatto anche questa. Boh. Andiamo a vendere. Eh, appunto. Aspetta. Aspetta. Io con l'asta del microfono davanti non vedo una cippa. Ok. Andiamo. Dobbiamo vendere tutto quello che c'è da vendere. Oppure perlomeno sbrigarci. Dite che ce la facciamo. Non lo so. Scrivete questo nei commenti. Ce la faremo a finire tutte le gallerie prima dell'ora? Ma teoricamente sì. Se ci mettiamo circa 4-5 minuti. Ma pure 7 minuti. Ce la facciamo. Anzi facciamo che a sto giro ricicliamo va. Il problema è che ci stiamo riempiendo di cuori. E questi li dobbiamo per forza adesso eliminare raga perché sono troppi. Altrimenti non ci facciamo nulla. Ci vado a eliminare tanto quelli che... E so che ne abbiamo tantissimi. E no. Non fare così. Allora. Questo non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Che smetto di ripeterlo. Tanto avete capito qual è il concetto. Ehm. Buono. L'abbiamo di meglio. Infatti è qua. Lo lascio. No. No. Ma questo lo teniamo. Ehm. No. No. E questo lo teniamo perché siamo nel dubbio. Ok. Via. Si parte per i prossimi. Ehm. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Questo quanto è lontano? No. Non è tantissimo lontano. Cioè. La dovremmo fare. Vai Donnie. Dai il meglio di te. No. Non in città. Ma non lo dà neanche fuori Scarlet. Con tutta onestà. Parliamoci chiaro. Va spinto sto cavallo. Andiamo. Andiamo. Forza. Diciamo. Diciamo prima davvero a spingerlo Donnie che. Che che ha a cavalcarlo. Via. Più veloce di prima. Perché eravamo in città perlomeno. No. Ci siamo incastrati. Praticamente nell'isolotto là. Mi serve più tempo. Lo so Scarlettina lo so. Dai una carota. Dai qualcosa. Motivalo. Sto cavallo pigro. Vai Donnie. Forza. Niente. Niente. Siamo. Siamo. Terribilmente lenti. Mi serve più tempo. Non è così lontano. Però ci stiamo mettendo un po'. Perché ci fermiamo. Vabbè. Ci fermiamo ovunque. No. Sta storia del cavallo la devono sistemare. Perché è scomodo. Davvero. Davvero. Molto. Molto. Scomodo. Ok. Quindi. Quante ce ne mancano. Forse tre. Credo. Adesso controlliamo al volo. Giusto perché voglio essere. Sicuro. Ce ne mancano tre. Dovremmo in teoria farcela. Vediamo. Percorso. Tre. Ce ne mancano esattamente tre. Dai. Dai. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Non ce la rendiamo. Vai Scarlettina. Si continua. Facciamo il nostro caos. Spargiamo caos ovunque. Ok. Questi qua sono abbastanza veloci. Ha arrivato l'amichetto. Ha arrivato l'amichetto. Che bello. Dai. 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 Tutti insieme. Ok. Dov'è il cuore? Eccolo qua. Via. Takage. Dammi tutto. Dammi tutto. Dammi tutto. Si sbrighi lei. Che lento a comparire. Via. Andiamo 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 andiamo. Ah l'altro ce l'abbiamo pure vicinissimo. Ce l'abbiamo vicinissimo raga davvero. Abbiamo fatto 15 metri. Ce l'avevamo già qua. Si ho fatto bene a restare nel mondo praticamente tre. Nonostante abbiamo superato il mondo quattro. Cioè tre l'abbiamo già superato. Perché così a meno siamo seriamente più efficienti. Allora via. Evitiamo davvero tantissimi problemi e soprattutto rallentamenti. Via via. Sempre più veloci. Ok. Qui qui. Se ci riportiamo qui facciamo una buona cosa. Che facciamo esplodere tutti vicino. Perfetto. Vedete quello che vi dicevo. Se non sono pigri e ci vogliono inseguire. Noi riusciamo tranquillamente a fare il tutto. Vediamo questi stivali. Ok. Dai. Quanto ci metti. Ci metta sempre assai a comparire. Qualche colpo fortunato in più lo stiamo facendo. Oddio lo smeraldo però lo vorrei. Andiamo di qua. Lupo mannaro abbietto. Carino. Kiba lo conosci? Era un tuo parente per caso? Kiba è il nostro lupacchiotto eh. Per chi non lo sapesse. Quello che abbiamo dietro che ci portiamo. Alle spalle. Lui sempre a ronfare sta. Però non ce lo portiamo in giro. Andiamo avanti. Eh vabbè questi uccidi i ragni. Non c'entra niente qua. Ah ma qua dobbiamo ucciderlo? Eh infatti perché. Mancava solo lui. Però a sto punto. Lo so che l'abbiamo concluso eh. Però dobbiamo sempre andare a fare il lato che ci interessa. Allora non è mai questo. Quindi andiamo dall'altro lato. Eh perché è così raga? Ormai lo sappiamo. Dai dai. Ok perfetto. Via. E anche un'altra è fatta. Usciamo da qui. Andiamo direttamente a Chiovashad. E poi ci diamo una mano. Oddio che potremmo anche vedere la mappa. E poi trasportarci successivamente. Però io faccio per abitudine. Che vado prima a Chiovashad e poi parto. Eh allora. Facciamoci questo. Dove c'è il punto? Madonna sempre lontanissimo. Ma non ce n'è uno più vicino? No no non voglio perdere tempo. Dobbiamo farcela in tempo noi. E dai. Quanto stiamo registrando? 32 minuti? No vabbè dai due li facciamo. Cacchierola. Pure che ci mettiamo 10 minuti l'uno. Ce la facciamo. Eppure siamo in anticipo. E però io voglio farvi vedere cosa succede dopo nel caso. Perché non dovesse succedere niente. Onestamente non saprei cosa fare. Quindi dovreste vedere in quel caso appunto la mia reazione. Perché non saprei cosa effettivamente fare. Ma credo che il gioco alla fine darà una spiegazione. Ci darà un'indicazione. Che ci porterà a capire come muoverci. Ok lontano sì ma è fattibile dai. Dai Donnie. Ma è lui che fa sto suono? Fatemi provare. Quando corre. Sì e fa una specie di nitrito spettrale. Caruccia questa caruccia questo dettaglio. Non me ne ero mai accorto. Vabbè che ce l'ho da poco quindi. Effettivamente siamo stati impegnati a cercare di capire altro. Vai vai vai. E lo so scarlettina. Stiamo andando a 2000. Dai il penultimo raga. Il penultimo. Che almeno ci dessero tanta esperienza. Porca miseria. Ce ne hanno davvero poca. Vediamo quanto ci manca per livellare. E al proposito dobbiamo metterci anche il nostro consumabile. Non si vede. Ah ok perfetto. Ci avevano bloccato tutto con la scritta. Siamo a metà per poter fare quasi il secondo punto abilità. No io sono sinceramente convinto del fatto di volerci provare a fare un rogue senza trappole. Proprio total without traps. Perché non lo so. Mi sembra una follia però mi sembra anche una cosa diversa. Non lo so. Ditemi pure voi che ne pensate. Io credo che siano necessarie. Soprattutto per la riduzione dei danni. Perché hanno tantissime. E dico tantissime. Tantissime statistiche. Che riducono i danni. Quindi senza trappole praticamente andremmo a complicare la storia. Non di poco. Dato che. Il problema principale sono i danni che si beccano. Quindi non lo so se sia davvero fattibile. Se si possa fare. Quindi diciamo che è tutto un bow. Vediamo. C'è nessun altro? Chi lo sa. Magari si può fare eh. Magari si può fare però. Finché non ci proviamo non lo sappiamo. Siamo di livello ancora troppo basso per poter pensare di fare qualcosa di interessante. Perché comunque col 58 mettiamo davvero pochissimi livelli paragon. Pochissimi. E noi dovremmo averne molti di più. A parte che sto incominciando. Anzi ho incominciato a fare le secondarie. Infatti sarò più lento adesso a livellare. Proprio perché sto facendo le secondarie per avere i cosi come si chiamano. I punti eccellenza datoci dalla fama. Quindi devo cercare di fare quelli. Sì ok li livellerò più lentamente. Però livello e faccio anche il resto. Perché onestamente ci servono. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Ricompenza e credo che. Ma la riscattiamo. Per il tempo che voi morite. No dov'è? Vabbè sti cavoli facciamolo dopo. Era qua poi. Semplicemente questo. Ok via. Andiamo andiamo andiamo. Veloci veloci veloci. Questo è il nostro penultimo eh signori eh. Poi sapremo finalmente cosa fare. E io sono proprio curioso. Eh perché sennò era una delusione seriamente. Se finiva così. Dicevo ma che diamine di story la ne è che finisce dopo 20 secondi. Almeno fammi fare qualcosa di interessante. Ah l'abbiamo già presso. Ok. Si è andato pure velocemente. Prendiamo sto cuore. Io non sto più guardando i cuori. Poi li guarderò alla fine. Punto bianco. Eh. Stiamo cominciando a riempire seriamente però. Mi sa che dalla prossima volta in poi dobbiamo almeno curarci. Eh scusa. Curarci. Ho letto curarci qua. Eh bisogna che andiamo a vendere. Insomma riciclare quello che sarà. Perché sennò. Intrimenti l'ultimo non lo faremo con tutta tranquillità. Allora. Ah eccolo qui. Dai. Concludiamo la nostra penultima galleria bietta. Buona. Questo. Andiamo adesso a vendere perché. Ma porca. Tutti l'abbiamo premuto. Tutti. Tranne quello che ci serviva. Va bene va bene. Manca poco. Tanto quanto è qua. 37. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ve l'ho detto che c'eravamo coi tempi. Pensavo che ci avremmo messo 10 minuti. Però in realtà stiamo evitando di fare tutti quei giri inutili uccidendo nemici che non ci serve uccidere. Anche se in realtà poi ci ritroviamo in mezzo alla via quindi ci muoiono pure. Allora. Oh. E vai qua. Scarletti. Uno. Due. Eh più. Serpeggianti. Salva tutte le carattini. Non mi cambia granché. Abbiamo recuperato parecchio. Qui. Vabbè questo li tengo perché poi dovremmo vedere. Ok perfetto. Possiamo già andare all'ultimo nostro nightmare. Ce l'abbiamo qui quindi andiamo velocemente. Era l'ultimo sì. Non vorrei aver detto una castroneria. No. Che acquista. Fermo. Sbagliato tutto. Eeeh. Non si vedeva qua. Percorso stagionale. 14 di 15. Boh. Vediamo che succede dopo questo. Siete curiosi. Tanti di voi lo sapranno già perché... In città. Vabbè. Scarlettina ha deciso ormai di dismentirci ad ogni cosa. È diventata incredibile. Proprio. Avevamo detto che era diventata ribelle proprio. Comunque. 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 Diceva. Ma porca misera Donnie. Ha fatto un frontale con dei vasi. Eeeh. Siete curiosi voi. Ma probabilmente voi lo saprete perché st'episodio uscirà. Sarà forse l'ottavo. Nono. Boh. Non lo so. Eeeh. Avrete già fatto tutto. Io sto facendo tutto in due episodi praticamente. Perché negli altri come avete visto non ho fatto tanto. Galleria B. Cioè sì le abbiamo fatte ma non fissandoci ecco. Abbiamo fatto tante tante attività. Però adesso io. Mi è presa la scimmia che devo capire. Eeeh. Quindi niente. Devo assolutamente andare a comprendere questa situazione. Se no come facciamo? Aspettate che io bevo un attimo qua. Non mi disidrato seriamente. Ah ok. Andiamo. Che poi non abbiamo ancora droppato l'aspetto che ci dà più armatura. Quello che qualunque danno si faccia. Si ha più armatura. Quello è fondamentale per stare nel mondo praticamente 4. Ah qua dobbiamo uccidere tutti i nemici. Eeeh niente. Qua siamo costretti. Qui siamo costretti. Questo ci rallenta un po'. Andiamo prima da sotto. Ok. Potremmo eventualmente poi ritornare da là. Andiamo. Canalizzata. Ok. Per un attimo ho pensato che fosse quello. Come si chiama? Quello maledetto. Non mi ricordo in quale situazione fossimo con Peppe. Forse in un nightmare decisamente troppo alto per noi. Eeeh ho detto vabbè zì. Eeeh Peppe tranquillo. Tranquillo. Adesso prendiamo. Prendiamo il santuario. Non l'avessi mai fatto. Eeeh eravamo già pieni di elite. Sono comparsi altri mob. Casino. Lascio. Vi lascio solo immaginare. Non posso ancora farlo. Però sono i rischi del mestiere. Lo sappiamo già. Ok. Forse è splendente. Niente. Splendi poco. Mi hai dato solo blu. Dai dai. Vieni qua tu pure. Nice. Arrivato proprio dall'alto. Perché ci rallentano così tanto? Ma cacchiarola. Dobbiamo andare ancora sotto. Però. E vabbò. Andiamo da qua dai. Dobbiamo fare tutta la parte di sotto. Questi dungeon che bisogna sempre girare punto per punto quando vuoi andare veloce. Rallentano tanto eh. Ma non è un difetto di game design. È semplicemente fatto apposta per evitarti di andare solo dritto. Cioè se no davvero non ci sarebbe gusto nel fare nulla. Lasciamo stare che noi stiamo cercando di sbrigarci. Però. Non è che per forza debba essere così. Allora. Andiamo andiamo andiamo. Facciamoli fuori tutti alla velocità della luce. Dalla luce. Dalla luce. Pure i biscioni. Ok. Adesso si può tranquillamente salire. Facciamo da qua perché c'è il forzerino. Riusciamo a cliccarlo magari. Vai, 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 vai. Vai, scalettina, che manca pochissimo. Sia alla fine del tempo e sia alla... Forse alla nostra comprensione. Alla verità. Sul da farsi. Sì, 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 tranquilla. Ormai puoi fare tutto. Hai sconfitto Lilith. Fatto culi in giro. Puoi fare tutto, puoi fare tutto. Sì, ma anche con quella. Cioè, non ti preoccupare. Cioè, ce la fai, ce la fai. Tu morici. Noia sta cosa di dover sempre uccidere tutti quanti. Perché poi non è che si raggruppano loro. Stanno sempre sparsi. Perché c'erano quelli dalla distanza, quelli ravvicinati. A meno questi, vedete, sono così. Ci si mette in mezzo e ci si diverte. E poi, vabbè, spawnano gli altri, va bene. Ma ci sta bene ugualmente. Ok. Ah, eccolo qua. Mi sembrava strano che non c'era un cuore. Ok. E che cacchio, continua a comparire un altro. Ok. Ma no, ci ha messo due ore questa a comparire. Ok, in teoria l'abbiamo finita. No, questa era, sì, capitale di Dindai. Però, ovviamente, dobbiamo andare, capitolo completato, assassino. Quindi, eh... Qui l'abbiamo completato e dobbiamo andare avanti. Ma era quello che avevamo già completato? Ah, dobbiamo riscattare la ricompensa, ecco perché. Che ci ha dato? Stessa, sesta cassa di viaggio. Quando ci sono almeno cinque nemici, li stordisci. Vabbè, questa la sappiamo. Quindi, eh... Se questo l'abbiamo completato, dobbiamo vedere tutti questi. Oddio, dimmi che non devo fare altre gallerie a Bietta, che sennò le faccio per conto mio. Sblocca tutto questo, vabbè. No, non c'è niente di... Di particolare. A parte purifica i semi dell'odio, vabbè. Ma quello lo possiamo fare con tranquillità. Ce ne andiamo in PvP e lo facciamo. Campione obiettivo completato. Un demone umiliato. Vabbè. Noi stiamo facendo tutto. Soglia della dannazione. Eeeh, quanta roba. Qua? Eh, chiaro. Vediamo, vediamo cosa andrà a cambiare adesso. Quanto abbiamo qua di registrazione? 44 minuti. Va bene, va bene. Ah, seriamente? Eh, basta! Non volevo prenderlo. Ma cosa? Cosa? Ma sempre ste cacchio di cose. Ste gemme se aggera. Pellegrinaggio da incubo. Campione, va bene. Ok, andiamo a Chiova Shad e cerchiamo di capire sta storia. Che finalmente dovremmo avere delle risposte. Credo, non lo so. Magari non le avremo e là... Onestamente non so che cacchio fare. Nel caso mi studierò qualcosa e poi... Vedrò durante la registrazione prossima. Nel prossimo gameplay appunto di... Di vedere cosa fare. Perché io già... Anzi, facciamo una cosa. Vendiamo prima tutta la roba che abbiamo. Una volta che abbiamo venduto, Diamo un'occhiata. Così. Ci togliamo dalle scatole perlomeno queste cose. No, no, eh no. E poi questi sono cuori che poi dopo gli do un'occhiata. Allora. Abbiamo qualcos'altro da fare adesso che abbiamo finito? No. No, non c'è. Non c'è niente da fare. Ci hanno lasciato così senza poter fare niente. Allora, siccome io non sono sicuro della questione... Ma questo è il codex del potere. Vabbè, quello che sarà. Ok. Ok, bracere. Ok. Riscattiamo tutto quello che c'è da riscattare. Non so se abbiamo riscattato tutto. Perché poi noi ci dimentichiamo stata facendo. Questi sono riscattati, sì. Vediamo un attimino con la scusa. Eccola qua. Ma non l'avevamo già riscattata? Forse richiedeva un altro livello? Scusate, mi ricordavo di sì. Forse era un altro ancora. Ma quante cacchio non ne abbiamo riscattate? Abbiamo fatto danni, ragazzi. Potevamo livellare più velocemente. Vabbè. A questo punto ne abbiamo una e due. Eh, cacchiarola, saperlo. Mannaggia la miseria. Va bene, va bene. E no, niente. Va bene il cavolo. Dobbiamo capire qua la situazione. Percorso stagionale. Fatemi capire. Allora. Il percorso stagionale, vabbè, qua include che abbiamo fatto tutto, ok? Ottiene un corabietto iracondo. Non riusciamo a prendere questo corabietto iracondo in nessun modo. Sconfiggi l'Eco di Varshan dopo aver completato la storia stagionale. Ecco, io vorrei completare la storia stagionale. Ma non ho capito come. Forse bisogna andare a livello 4 del mondo per incominciare a fare qualcosa. Adesso accadrà qualcosa di diverso? Perché a parte che non mi trovo più il nostro amico Corm... Cormond? Sì, Cormond era. E quindi non so dove andare a recuperarlo. E facciamo così. Andiamo a Chiovashad. Siamo a che baldo che stai combinando. Andiamo a Chiovashad. Dove sta? Aumentiamo il livello del mondo a 4 e vediamo se cambia qualcosa. È tutto improvvisato, raga, come potete ben vedere. Non mi sono programmato niente, come al solito. Cerco sempre di farvi vedere... Perché questo non è un video guida. Questo è un video tipo scopriamo la situazione. Poi nel momento in cui c'è il video guida e avete bisogno di sapere qualcosa... Naturalmente sarò già informato. Accettiamo. Perfetto. Vediamo se cambia qualcosa. Se c'è qualcosa in più che ci può offrire a parte i dungeon generici. Vediamo, vediamo. No, a me non sembra che cambi nulla. Io credo che sia la stessa cosa. Cormond di solito stava pure qua fuori. No, non me l'ho perso. Non mi ricordo dove stava. Il percorso stagionale invece cosa ci dice? Vediamo. Vabbè, questo l'abbiamo completato. Sconfiggi l'eco di Varshan a 3. Del link dove pare completato la storia. E ma diamine. Come si fa? Verso la grandezza. Mioro e glifo. Vabbè, lo devo portare al grado 20. Questo a breve lo faremo. Bracci durante la marea infernale. Vabbè, ci siamo quasi. Non è un problema fare il percorso stagionale. Perché effettivamente sono tutte cose molto fattibili senza neanche uccidersi. E onestamente va bene. Cioè non credo sia complicato fare questo. La cosa che non mi sta appunto tornando, ma neanche proprio un pochino, è come diamine fare questa roba. Cioè nel senso, come andare avanti nella missione principale. Non so se sta capitando anche voi, raga. Mostra solo missioni stagionali. Vedete, non ho una missione stagionale. Quindi io che cavolo ne so. Sto continuando a fare... Oh, ci sono buggate delle situazioni. Dio, quanta roba. Non me l'aspettavo. Perché io pensavo, e dico pensavo, di dover, e credo che funzioni così, di dover invocare appunto l'eco di Varshan. Perché si trovano là sotto. Ma quando ci clicco non accade nulla. Quindi vorrei andare a capire se sta situazione è un problema mio. O sia un bug. Non lo so. Purtroppo quando vedrete questo video sarà passato così tanto tempo che ormai l'avrò già saputo. Onestamente non riesco a comprendere questa situazione. Cuore di demone. Si fanno così, ne posso fare un'altra. Hai creato un'invocazione. Perfetto. E ce l'abbiamo. Ma se non possiamo sfruttarla lì sotto. Dove possiamo sfruttarla? Perché qua lo dice chiaramente che parla delle potenti pustole a biette che si trovano nelle gallerie. Ma non funzionano. Non funzionano. Quindi boh, non lo so. Raga, proverò, farò qualche test, controllerò il robe e mi informerò perché devo capire assolutamente se sia un bug. O se è semplicemente qualcosa che attualmente non lo sto comprendendo. Anche se a me il gioco sembrava abbastanza chiaro su questa cosa. Cioè invoca un eco di varsion delle più potenti pustole a biette. Andiamo sotto. Le pustole a biette sono quelle là grosse. C'è la parte bianca. Ci clicco e non succede niente. Quindi, boh, non lo so. Fatemi vedere da quanto stiamo registrando. 51 minuti. Fatemi vedere pure se c'è qualcos'altro che potremmo andare a valutare. Vabbè, l'eco dell'odio di Lilith magari la eviterei molto volentieri. No, non mi sembra ci sia nient'altro. Beh, se dovesse venirmi in mente... Cos'è? Un po' di carne. Il gruppo deve conquistare. Vabbè, qua dobbiamo prendere questa. Se dovesse venirmi in mente qualcos'altro, dovessi, insomma, cercare le informazioni, poi nel prossimo video saprete di più. Quindi, grazie per aver seguito questo video. Spero vi sia piaciuto, nonostante siamo andati a fare solo gallerie a biette perché volevo arrivare a comprendere questa situazione. Se così fosse lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io cercherò di comprendere questa situazione. Da Talcan, Kiba e Scarlett è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!